Ups a tutti, miei cari Upsini e Upsine, come state? Spero molto bene. Oggi sono qua solo per voi, per fare veramente un video super semplice, super rilassante, perfetto per farti chiudere gli occhi e addormentare. Farò un po' di trigger e ne ho anche due nuovissimi, comprati da poco, che spero possano piacervi, quindi rimanete fino alla fine per vederli. Io direi di iniziare. Che ne dite? Secondo me si può iniziare. Allora, oggi farò appunto alcuni dei trigger più nuovi che ho, oppure che mi piacciono tanto. Ma iniziamo. Io direi di iniziare da questa pallina Orbitz. Andiamo. Grazie a tutti Grazie a tutti Adoro Ok Passiamo al prossimo Che avete detto che anche a voi questo piace tanto Ovvero queste due palline fatte da altre palline Io le adoro Quindi dai raccontatemi qualcosa di nuovo Delle novità del momento, del periodo Io non so se lo sapete Ma sto per prendere la patente E ho dato l'esame teorico il 20 giugno E mi hanno appunto dato il foglio rosa E ormai saranno un paio di mesi Che sto facendo le guide Per imparare proprio a guidare E poter sostenere l'esame pratico Per appunto avere la patente Mi hanno fissato la data dell'esame Non manca tantissimo Non manca pochissimo Vedremo come va Nel caso Non vada Si riproverà Ma noi dobbiamo essere fiduciosi Dobbiamo crederci Quanto tempo Quanto tempo che non le prendeva in mano La torta La torta La torta Le adoro troppo, sono tipo la cosa più bella del mondo, un genio che le ha inventate, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Stupende. Ok dai, dobbiamo andare avanti. Questi, un altro trigger relativamente nuovo. Questi bruchetti. Ok. Ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, dai, mettiamolo qua. Ok, adesso... È il momento di accendere la candela. Fatemi sapere se vi farebbe piacere un video solo di... Sono della candela scolpettante, magari anche con due candele scolpettanti, perché appunto io ho questa, ma ne ho anche un'altra. Perciò fatemi sapere se vi potrebbe far piacere. Un attimo che l'accendo. Mi sono un po' bruciato, ma vabbè. Il suono è sempre qualcosa di stupendo. Guardate la mia... Chiaudeggia. Concentrate sul cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, volevo cercare di contenere il più possibile il fumo. Ma noi andiamo avanti perché non abbiamo finito. No, no, no. Adesso, ultimo trigger dei vecchi, quindi dei trigger che avete già visto. io poi volevo farmi un'altra domanda. Allora, io di solito quando registro metto una sveglia alle tre di notte per alzarmi e registrare. ma in realtà io questa sveglia alle tre di notte per alzarmi e registrare. No, no, no. Non so se mi hanno spiegato. Per esempio, confrontando questo video con gli ultimi due, per esempio, preferite la qualità del suono di questo o dei due passati? Quindi, intanto faccio un po' di mouth sounds. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Ok, allora il primo nuovo trigger è questo portachiavi con uno, due, tre, quattro tastini, guardate che bellino, dimmi che colore è questo, 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 e questo, e la base, perfetto. Sono anche i colori di pastello molto belli da vedere insieme. Ok. 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 Mi piace, secondo me da tenere in mano è proprio stupendo, ma adesso prendo quello che secondo me è il pezzo forte. Avevo in realtà un altro oggetto che volevo prendere, ma lo prenderò più avanti. Per chi non sapesse cos'è, è una lampada libro che io apro ed emette una luce. Vedete? Vedete? In base a quanto tocco il libro cambia colore. Secondo me è veramente rilassante da vedere. Osserva la luce che cambia colore. Ha una ricarica qua sotto, la stessa identica del telefono. Secondo me è veramente bello. Lo userò per dei video bis oltre che ti sicuro. Ma adesso è il momento di dire co co co. Ora tocca, tocca, tocca solo a te. Iscriviti al canale se sei nuovo. Perché io vedo che una buona parte di voi continua a guardare i miei video senza essere iscritti. Quindi fatelo per favore, è gratuito. E così non vi perderete, non so parlare, non vi perderete nessun mio nuovo video. Lasciate un like, un bel commento se avete un attimo di tempo. E niente, il video di oggi finisce qui. Ma se tu vuoi restare ancora con me, io ti lascio il mio video precedente, una mia playlist e il tasto per andare sul mio canale e vedere tutti i video che vuoi, tutti gli shorts che vuoi. E niente, ti mando un grande bacio. E buonanotte, 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 buonanotte.